Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo con il mitico, l'inesauribile, ma l'inesauribile no perché fra un po' finisce però, il megagalattico diario di Mario Roatta che ci racconta sempre una nuova, purché si tratti di mangiare, bere, vestire, dormire e andare a donne o per case. Eramo arrivati al 7 ottobre, scusate, 7 dicembre, sta un po' un attimo follia, 7 dicembre e tra l'altro la data del 7 dicembre è una data importante perché inizia la battaglia, la cosiddetta battaglia di Montelungo, la battaglia di Montelungo per chi non lo sapesse è stata sostanzialmente il battesimo del fuoco del ricostituito esercito italiano, ossia l'esercito del sud, attraverso appunto l'opera del primo raggruppamento motorizzato. Nelle pagine di Mario Roatta dei giorni precedenti era stata esaminata più veramente en passant che effettivamente capendo il significato politico, prima che militare, della costituzione del primo raggruppamento motorizzato, però il discorso è che Mario Roatta ci parlerà nel suo diario della battaglia di Montelungo che così in maniera importante determinerà l'avvio della effettiva cobelligeranza e quindi nella partecipazione alla guerra di liberazione. Chissà se avrà il tempo in tutte le grandi argomentazioni di filosofia intellettuale che Mario Roatta esprime in queste pagine, si avrà il tempo anche di parlarci di questa importante esperienza. 8 dicembre, tempo grigio e freddino. Alla mattina lavoro, ultimando lo studio sulla priorità dell'aggressione germanica. Alle 11.30, messa cantata. Quindi c'è anche il tempo croatta di andare alla messa cantata, quindi non si fa mancare nulla. Riprendo i raggi ultravioletti. Visito quindi l'allievo dell'Accademia Navale Soldati, figlio del mio compagno di liceo a Torino. Ben ragazzo, sospetto di tifo o, Dio non voglia, di meningite. Io adesso non lo so che sia più grave il tifo o la meningite, così al lume di naso mi sembrerebbe il tifo peggiore, però io non sono un medico. Qui magari all'epoca il tifo si curava la meningite. No. Comunque. Ha sentito parlare di me da suo padre. Chissà cosa gli avrà detto. Mi ricorda, per esempio, una gita in bicicletta a un convento in cui un padre, tra virgolette, misterioso, ci invitò a colazione. E mi sembra giusto. A Roatta cosa gli vuoi invitare? Vuoi invitare a una rassegna militare, a un'esercitazione, a un'attacca a fuoco, a una simulazione di sbarco? No. Roatta lo inviti a colazione. E questo è ovvio. Anche se si è un padre misterioso, che in quella circostanza non lo ha invitato alla messa cantata, ma semplicemente a una colazione. Anche perché se tu invidi Mario Roatta a mangiare e a bere, stai sicuro che lo fai felice. Episodio perso di vista. Si trattava di un padre, forse il superiore della grande chartreuse, che era in giro per comprare un edificio dove ricoverare i frati scacciati dalla Francia. Egli alloggiava in un convento presso Lanzo e io sono andato col soldati a fargli un'ambasciata a parte di mio padre, il quale, a mezzo conoscenze, era stato interessato ad aiutare le ricerche. Un lavoro di fino proprio, nel senso che palazzinare, attività proprio di un certo spessore che, appunto, Roatta, non so a che titolo, in che circostanza, potesse fare questa ambasceria, ma se si prestava al desiderio di questi poveri frati scacciati dalla Francia nel trovare un palazzo, un edificio. Un edificio. Saranno stai tanti. Ricordo che si parlò della villa di Monte Oliveto, a Pinerolo, ma che poi la confraternità si fissò in Tarragona, a Catalogna, dove impiantò anche la fabbrica della chartreuse, che dovrebbero essere anche liquori, credo. Quindi, diciamo, abbiamo perso un'opportunità. Magari Roatta riuscì in qualche modo anche a farsi invitare a Pinerolo per fare qualche tipo di esperienza enogastronomica. Nel pomeriggio, con l'Aprilia, andiamo lentamente a Francavilla. La vettura ha un ammortizzatore fuori uso e la 1500 è con le sorelle a Lecce. Roatta con le macchine, però non se può proprio. Il dottore, che ha presso di sé il fratello, ci fa vedere i preparativi fatti. Bella roba di biancheria, eccetera. Giustamente. Su un tavolo vedo pochi piatti e posate di terzissimo ordine, perché Roatta non mangia se non ci sono posate di fino. Qui siamo arrivati veramente da Bruno Barbieri, nella ricerca di un alloggio decente, siamo arrivati a Xabba della Zorza, che se non mangia con posate di primo ordine, non mangia assolutamente. E qui bisogna... Roatta ha un suo savorfer che ci distilla in ogni circostanza. Mentre faccio silenziose riflessioni, il dottore dice che è roba per gli attendenti ed in un armadio ci mostra per noi bella cristalleria, persino coi bicchieri da champagne. E qui siamo all'8 dicembre, mentre a Montelungo si combatte. E Roatta con i bicchieri, niente meno da champagne. Però decidiamo di stare ancora alcuni giorni dove siamo. Quindi l'idea di poter trovare una villa con questo armamentario, per il momento, viene scartata. 9 dicembre, tempo grigiotto, non freddo. Lavoro fino alle 12, bisogna sempre capire che lavoro fa, magari la relazione quella dei tedeschi. Poi vado a Francavilla, dove Roffeni mi ha preceduto per mettere a posto le brande della truppa, eccetera. Oltre ai nostri pochi uomini, arrivano un sottoufficiale e quattro uomini dei Carabinieri Reali, certo inviati da Piesce. Vedo anche il cuo Piesce, grande aiutante, attendente a sminuirlo, un grande aiutante di comandante dei Carabinieri, quando Roatta era in Jugoslavia, che sarà poi implicato in maniera pur un po' controversa nella fugga di Roatta successivamente, c'era tutto un bailame, Piesce. Vedo anche il cuoco, che è di Gensano di Roma. Era cuoco nella casa di certi duchi olandesi, in Gensano stesso. Lo vedremo all'opera. Andiamo poi al corpo d'armata, avendoci De Stefanis invitati a colazione sino da ieri. Quindi Roatta ha inviti dappertutto. Ah, il cuoco di Gensano. De Stefanis che è già da un giorno che lo cerca per invitarlo. In ufficio c'è Coronati, che non comanda più l'Apiceno, ed è a disposizione. Primo incarico, inchiesta su un incidente imprecisato avvenuto al raggruppamento da Pino ad Avellino con Strascico a Napoli. Pensavo che come incarico potessero andare a cercare da mangiare. Si accenna a una manifestazione repubblicana, il raggruppamento è entrato in linea. Ah, meno male, se ne è accorto, se ne è accorto che il raggruppamento nel frattempo è entrato in linea, perché se no ci stiamo un po' perdendo in frizzi e ballazzi, eh. Ok, però, ottima colazione, da tempi lontani, cioè come non aveva mai mangiato. E ci elenca cosa mangia, attenzione, antipasto di una specie di foie d'ua con sedani, una specie, tagliatelle all'uovo fatte in casa, fritto di cervella, animelle e carciofi, ottimo arrosto con insalateria, dolce, frutta, caffè, vino bianco di Martina Franca, vecchio barolo, offerto da Coronati, Kummel, ma io adesso non sto dicendo stupidaggi, c'è scritto proprio qua, è tutto scritto, non è che mi sto inventando le cose, lo ha scritto per davvero, cioè ha elencato la colazione, e nel frattempo, la riga prima dice il raggruppamento è entrato in linea, cioè noi ci aspetteremo di sapere, di avere informazioni, stanno combattendo, stanno resistendo, i tedeschi qui, i tedeschi là, no, però lui ci elenca, ci elenca, tutte le pietanze, una per una, bello anche il servizio, camerieri in smoking bianco, camerieri in smoking bianco, mentre i soldati combattono al fronte, con le scarpe, magari due destre, due sinistre, alcune, anzi, siamo nel riarmo di questo reparto, che appunto è un reparto abbastanza esiglio, con grosse difficoltà logistiche, stanno combattendo sull'Appennino, quindi c'è un problema veramente grosso, riuscire a rifornire tutte le situazioni, tutte le realtà così disagiate, in alta montagna, siamo al 9 dicembre, con la neve, con i problemi, eccetera, eccetera, ma, Roatta, bello anche il servizio, camerieri in smoking bianco. Coronati, narra il saccheggio della sua villa a Porta San Sebastiano, e lo sfarzo delle due torri, che il governatorato aveva allestito, ad alloggio di Muti, Muti, Ettore Muti, Medaglia d'Oro al Valor Militare, segretario del PNF, ucciso in maniera abbastanza strana, equivoca, misteriosa, in quel di Freggene, nella seconda quindicina di agosto precedente, su ordine di chi di Badoglio, eccetera, ce la nota. Porta San Sebastiano è l'uscita della via Appia nelle mura aureliane. A Roma Sud, ed è inserita fra due torrioni, tutto il monumento nel 1939, fu trasformato in studio privato, e abitazione del segretario del Partito Fascista, Ettore Muti, ci viene specificato, anche piede a terra, per le sue numerose amanti, dico io così, tra le righe. A tavola, fra gli altri, il generale Properzi, che si rivela di Final Marina, ha sposato una figlia del generale De Raimondo, di cui facendo istruzione sulla spiaggia, nel 1909, vedevo la villa e una figlia. Anche la figlia vedeva. Parliamo dell'albergo Garibaldi, proprietario a Cinelli, del teatro di Pietraligure, degli Accame, eccetera. Vi è pure un colonnello Maffei di Pinerolo, non parente però di Achille. Gli è entrato all'ospedale, vi trovo grande Ammoino, c'è una nota, Ammoino è un'espressione diffusa nella lingua napoletana e altre zone del sud Italia, indicante una situazione di confusione, rumore, andirivieni di persone, eccetera, con le varianti Ammoina, Ammoina. Quindi c'è un assembramento, potremmo dire oggi. Per l'arrivo di circa 200 feriti ed ammalati italiani, si tratta della nave ospedale gradisca, catturata da tedeschi e funzionante ora con personale germanico. Trasportava a Trieste 700 militari italiani e britannici dall'Aero e Samo. Ma in Adriatico, due cacce inglesi l'hanno dirottata su brindisi, i nostri uomini sono denutriti. Ecco, loro sono denutriti e Roatta mangia con i camerieri con lo smoking bianco. I nostri uomini sono denutriti. Furono trattati bene sulla nave, ma a terra erano all'aperto, trattati quasi come i prigionieri sani ed hanno fatto la fame. Ecco, cosa che Roatta non sa neanche dove sta di casa. Cattive notizie del giovane soldati. Pare assodato che abbia la meningite tubercolotica, che non perdona, dice il professor Iachia. Oggi capisce bene, ma dice parole diverse da quelle che evidentemente vuol dire. Speriamo in un miracolo. 10 dicembre. Tempo discreto al mattino che peggiora sino a pioggia. Visita ad Ambrosio, poi a Sua Eccellenza Badoglio. Questi mi accoglie molto bene. Mi legge le lettere scambiate fra lui e McFarlane a mio proposito. La richiesta alleata è stata fatta la prima volta a voce. Badoglio ha pregato di metterla per iscritto e il che è stato fatto. Badoglio ha risposto una lunga lettera, ho visto la minuta tutta di suo pugno, in essa diceva che prima di sottomettere la richiesta a sua mestà il re e al Consiglio dei Ministri, desiderava fare presente, a prescindere da ogni altra considerazione, il diritto che in atmosfera democratica e civile ogni individuo deve avere di sapere di che cosa venga accusato e difendersi. Ecco, se ne ricordano adesso della democrazia. Persona che fino a quattro mesi prima, pensiamo a fine di luglio, quando si mettevano al muro gli operai, diciamo che tutto questo garantismo era un po' derubricato. Le altre considerazioni erano che io ero stato tra i più ferventi partigiani dell'armistizio, avevo seguito fedelmente il governo, in fuga, mi ero adoperato in ogni modo per una grande collaborazione operativa con gli alleati, eccetera. Collaborazione agli alleati, mangiare e bere. Un trattamento come quello che si richiedeva non poteva non lasciare perplessi tutti coloro che si erano comportati nella stessa maniera, sapendo che da un momento all'altro senza possibilità di fare sentire le proprie ragioni un attacco potrebbe colpirti, gli dice Badoglio. Nella risposta, McFarlane si dice che i governi alleati non hanno per ora accuse specifiche da nuovere al genero atta, ma che tuttavia, dato eccetera eccetera, si confermava che eccetera eccetera. Quel per ora cambia un po' la faccenda rispetto a quanto mi era stato detto precedentemente. Eh, diciamo che qua c'è qualcuno che su Roatta ha dei forti sospetti, il governo di Belgrado per esempio, così giusto per dire. Viceversa, manca completamente l'accenno pure fatto in passato a un qualsiasi malanimo dell'esercito verso di me. Chissà perché. È amato da tutti Roatta. Badoglio è convinto che l'affare non avrà seguito ecco se lo dice Badoglio allora a posto e mi assicura che il governo mi sosterrebbe eh, mi sosterrebbe finché dura il governo. Accenno quindi all'affare Zanussi chiedendo se il suo allontanamento sia dovuto a qualche strascico della faccenda Gambaldoni. Badoglio risponde di no. Zanussi era invadente, si agitava e dava fastidio ai colleghi. Sa benissimo che l'affare Giambaldoni si riduce a un pettegolezzo di quest'ultimo. Allora dico ringrazio mi sarebbe dispiaciuto moltissimo che lei credesse che io avessi avuto intenzioni non chiare. Come già le dissi io sono una persona pulita. Badoglio risponde lo so benissimo per questo ho sempre avuto e ho sentimenti cordiali anzi se permette di amicizia per lei e per la sua signora che è sempre stata molto gentile con mia moglie e quindi abbiamo anche una certa conferma di come le signore Badoglio e Roatta abbiano una cordialità. Faccio poi visita a Messe che mi invita a colazione sul Campidoglio quindi è una serie di inviti veramente di alto livello. C'è anche Rossi Silvio e un tenente colonnello di Stato Maggiore che era alle operazioni a Monte Rotondo dove c'era il comando al comando dello Stato Maggiore dell'esercito fino all'8 settembre. Dice che il presidio si è difeso assai bene dai paracodisti germanici i quali ebbero circa 240 morti 36 abitanti sono stati vittime di quei combattimenti fra cui sua madre che era venuta a fargli visita il giorno 8 una sfiga totale e che aveva alloggiato in una casa sua una velletta fra il paese e la maternità tra virgolette sarà un quartiere la povera signora ebbe la fronte falciata da un tiro di fucile mitragliatore che può rapporare una morte orrenda visita Rossi Francesco che è parecchio giù cerco di persuaderlo a venire all'ospedale dove potrebbe prendere la mia camera anche Messe e della stessa idea a sera a pranzo dall'ammiraglio Rubertielli lapsus calami per Rubartelli c'è De Gurtain Sandalli e un tenente colonnello aiutante di campo di sua maestà pranzi e cena probabilmente ad altissimo livello dopo cena molto fine non ci dice cosa hanno mangiato però molto fine vengono a prendere il caffè Brizzi e Ruffeni e si fa un pinacolo sino a luna passata mancano solo le donne veramente qui abbiamo rasentato proprio le cene eleganti come direbbe qualcuno 11 dicembre dopo un forte acquazzone notturno bella giornata partenza alle 8.15 per Bari diamo un passaggio al professor pazzi bolognese amico di Ruffeni interessante e lunga conversazione sia all'andata che al ritorno il mio vestito all'unione non è pronto e mi toccherà tornare veramente una sciagura anche qui c'è sempre una certa inefficienza da parte di coloro che dovrebbero aiutare dovrebbero vestire calzare roatta di tutto punto e invece questo vestito ancora non è pronto è veramente una cosa irriguardosa con bell'uomo andiamo a Bitonto a visitare un villino di proprietà di un capitano abruzzese riccone del posto credo abruzzese sia il nome del capitano perché è in maiuscolo povero bell'uomo dico io il villino manca di quasi tutto persino dei vetri in seguito al bombardamento di Bari ecco ce ne siamo accorti che è stata bombardata per renderlo abitabile ma sempre senza luce di sorta occorrerebbero molti lavori vi permettetemi un commento su bell'uomo che intanto lo ritroveremo bell'uomo poveraccio di cui abbiamo fatto un video e vi invito ad andarlo a rivedere metterò il link alla fine di questa lunga disquisizione poi sarà colui che pagherà e pagherà cara con la vita mentre Roata sappiamo che invece non pagherà amarezza fingo perciò di interessarmi di questa villa che bisogna fare i lavori il capitano mi assicura che la famiglia Mininni Caracciolo non è più al palo del colle che è a pochi chilometri ma da anni al Cairo successivamente andiamo al palo del colle da un commendatore Tricase che ci riceve molto gentilmente ci suggerisce due ville locali di cui una almeno moderatamente attrezzata che Bellomo vedrà per poi riferirmi la famiglia Minini Caracciolo non è mai andata al Cairo ma è sul posto in via 20 settembre penso di andarla a vedere ma poi il signor Tricase ci vuole offrire il Vermut e si fa tardi quanto dura questo Vermut per farsi tardi colazione a casa a Bellomo a Bari poveraccio Bellomo ha afferto pure la colazione a Roatta Badoglio fa le promesse a Roatta ma a Bellomo mi chiede fa le promesse che lo salverà il governo si impegnerà comunque con Bellomo a Bari c'è la moglie che si mantiene in gamba un figlio Andrea poi una serie una cosa non ho messa un'omissis in una fabbrica di aeroplani di Foligno lavorava non è specificato scappato al di qua con la moglie napoletana una figlia professoressa di lingue un figlio che studia chimica farmacia e una figlia che studia medicina brava gente a ritorno all'ospedale trovo che il capo di stato maggiore di Rubartilli nuovo lapsus per Rubartelli mi sa che pure che cosa pure Roatta c'è la meningite che scrive fischi per fiaschi mi ha mandato riparati da un operaio della marina gli occhiali che gli avevo affidato ieri quindi diciamo abbiamo anche questi servigi che gli occhiali di Roatta vengono riparati da un operaio della marina e diciamo che io mi fermerei qui all'11 dicembre abbiamo avuto anche oggi una sana dose di pettegolezzi di descrizione di mangiare di bere di dormire di giocare di visite di vivere di elencazione dettagliatissime circostanziatissime di pranzi luculliani ma l'unico accenno alla battaglia di Montelungo per il momento è soltanto il raggruppamento è entrato e intanto è entrato lì tra l'altro tra parentesi neanche è considerato importante lo mette pure tra parentesi come a dire che c'è pure la guerra nonostante veramente sono i prigionieri malati che hanno fame però alla fine noi abbiamo di che godere la vita anche di questi tempi io vi dico che onestamente continuando a leggere queste pagine io ho un magone che mi viene su detto questo come al sol vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao